Ciao a tutti gli amici di Pesca dalla Barca, questo è il mio canale YouTube e volevo dirvi che l'ho creato io anni fa per pura passione e anche per ospitare i video di aziende che collaboravano con noi per quanto riguardava la carta stampata infatti io ho scritto molte riviste di pesca nel corso degli anni però avevo intuito che la forza dei video sarebbe stata una cosa importantissima ma anche molto bella per me perché lo facevo per passione e pubblicavo video sia di pesca che qualche tutorial sia su Pesca dalla Barca TV che sugli account collegati, ora parliamo di Pesca dalla Barca perché sono proprio in barca, la mia passione è forse più grande e sto realizzando questo piccolo video durante una pausa di una pescata drifting per esempio infatti se guardate qua abbiamo una delle attrezzature che produciamo una Strike famosissima venduta in tantissimi pezzi in tutta Italia che è qua in attesa di un alletterato, speriamo che passi un alletterato da boccare mentre a Pop abbiamo altri due modelli realizzati sempre da me che sono le Amato Defender qua abbiamo la 50 libre bianca che aspetta un tonno se passasse anche se ormai rimane davvero poco tempo e la 30 libre blu, una canna bellissima per la traina col vivo che in questo caso ho messo giù anche lei armata con uno Striker 30 libre anche lui, tipo top shot con il trecciato per vedere di catturare un alletterato in questo periodo stanno passando alletterati e sfruttavo questa pausa come vi dicevo, questa pausa durante la pescata di inattività totale dei pesci per raccontarvi che il canale Pesca dalla Barca non viene chiuso ma il grosso del nostro impegno mio e degli amici che mi danno una mano si sposta su Matiamato, il canale Youtube, il media social di tutti i tipi Matiamato e matiamato.it è il sito internet sul quale metto in vendita appunto le attrezzature che sto creando è una piccola attività, me ne rendo conto è davvero microscopica e non paragonabile alle grandi aziende che ci sono però è un'attività che porta avanti con grandissima passione sviluppo solo attrezzature testate a me, selezionate che possano fare a mio parere la differenza in alcune pesche che possano essere giuste per pescare il Mediterraneo e il mare in principale abbiamo davvero tantissime attrezzature che abbiamo creato nel corso degli ultimi anni per esempio le Total Spinning, le canne da spinning in 7 modelli in 5 modelli, più le Tuna Strike, quindi altri due modelli sempre dedicati allo spinning in questo caso però sto usando una Tuna Strike a drifting leggero abbiamo le Defender, abbiamo tutta la linea di canne surf Italy per la pesca a fondo da terra, abbiamo le Amato Strategy che servono per la pesca pasturatore da barca ma anche la pesca pasturatore da terra sto sviluppando le Spigola, le nuove Bolognesi quindi insomma c'è un grande fermento intorno alle nostre nuove attrezzature ci stiamo lavorando molto, ci stiamo dedicando molto tempo e abbiamo trovato anche delle linee di minuteria e di fluorocarbon che sono eccezionali questo video per raccontarvi che il nostro impegno da pesca dalla barca a videocondivisione a azienda Amato si sposta necessariamente perché abbiamo soltanto 24 ore al giorno e due mani però cercheremo lo stesso di caricare dei video su pesca dalla barca con il vostro aiuto quindi se volete mandarci qualcosa magari mandatecelo, consigliatecelo noi siamo sempre attivi e ci ha fatto piacere conoscere tantissime persone grazie alle quali abbiamo potuto anche condividere delle pescate quindi il progetto pesca dalla barca rallenta si sposta il nostro impegno su Matiamato marchio di canne da pesca eccetera però non si ferma del tutto quindi continuiamo la collaborazione con chi volesse e con chi volesse anche usare attrezzatura Amato un caro saluto a tutti, è stato un piacere statemi bene, ci vediamo a pesca ciao da Matiamato grazie a tutti